Crypto Verzoom. Stiamo sottoscrivendo una nuova ondata di investimenti. Tutto quello che c'è da sapere sulle criptovalute e sulla tecnologia che le sostiene. Nuovi strumenti, nuove tecnologie e nuove applicazioni commerciali. Il nostro partner di collaborazione è la piattaforma di trading di Cryptovalute Mosaic Alpha. Benvenuti a Crypto Verzoom anche oggi. Seduto di fronte a me c'è Attila Vidakovic, fondatore di Mosaic Alpha. E io sono Anna Andortoth. Benvenuti a tutti. Ciao Attila. Ciao, benvenuto tra gli ascoltatori. Mosaic Alpha, ecco di cosa parliamo oggi, ha lanciato in live. Dopo il lancio della versione di prova lo scorso novembre, nelle settimane successive al lancio della versione di prova nel novembre dello scorso anno, questa piattaforma di trading è stata lanciata in live. Ma non stiamo parlando di come funziona, stiamo parlando un po' del background. È stata appena lanciata e ha appena ricevuto un premio. Sì, abbiamo ricevuto un riconoscimento molto importante perché, per capire il motivo di tanto orgoglio da un punto di vista più lontano, il mondo della finanza decentralizzata è agli inizi. E ci sono ancora molti problemi da risolvere perché l'intero ecosistema funzioni bene. Ecco perché ci sono queste lacune che molte persone stanno cercando di risolvere perché se uno di questi elementi viene risolto, l'intero ecosistema può funzionare molto meglio. Quindi ci sono ancora molte lacune nel mercato, si potrebbe dire. Ma queste non sono sfide facili, quindi non pensate che solo perché siete molto creativi riuscirete a trovarle, quindi dovete conoscere bene la professione, l'intero sistema e la tecnologia. Perché si può perdere molto tempo se qualcuno pensa di poterlo risolvere facilmente e poi si rende conto che la tecnologia non ci permette di risolverlo così facilmente. Ma è da molto tempo che ci occupiamo di questa follia che sta iniziando a essere implementata nel sistema mosaico e vorremmo colmare questa lacuna e risolverla in modo molto piacevole. Tra l'altro ci sono ancora uno o due elementi delle molte decine o addirittura centinaia di elementi che il mondo deve risolvere. Ma fortunatamente anche l'industria, il pubblico delle criptovalute e persino l'industria finanziaria si sono interessati al nostro sistema. Per cui abbiamo ricevuto un premio molto prestigioso, il titolo di The Gap Filling DeFi Platform of the Year. La Gap Filling DeFi Platform perché può davvero consentire alle persone che non sono esperte di criptografia, che non hanno molta familiarità con la tecnologia, ma che vogliono ottenere servizi in un ambiente decentralizzato, eliminando questi intermediari che in realtà stanno solo collegando i clienti ai fornitori di servizi. È un riconoscimento molto grande e ovviamente è anche un buon strumento di marketing, quindi lo useremo per il marketing. Ed è stato molto eccitante perché sono venuti da un'ampia gamma di luoghi solo per conoscere meglio noi e il sistema. Abbiamo avuto qui tre o quattro delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo che erano molto interessate a vedere come avrebbe funzionato in futuro, quali opportunità avrebbe offerto loro e anche questo è un ottimo feedback quando si ascoltano i leader di persona, cosa che si può sentire nei notiziari e negli opuscoli che vogliono aprirsi a questi sistemi, ma sperimentare che stanno venendo a incontrarci perché hanno sentito parlare di questo sistema è molto molto stimolante e dimostra che siamo sulla strada giusta ed è molto eccitante per l'intero mercato che in effetti alcuni dei maggiori operatori erano presenti e sono interessati a come trarre vantaggio da questo mercato perché pensano che prima o poi ci sarà molto denaro qui, molto denaro che è interessante per loro e vogliono servire questi clienti e non essere disturbati da questo, stanno andando avanti con il tipo di servizio che hanno fornito, vogliono entrare nel mondo della defi ed è una questione di futuro se utilizzeranno la piattaforma di trading Mosaic Alpha per questo o se sono venuti principalmente per capire meglio come pensiamo, sanno esattamente cosa stanno facendo e perché è così inevitabile. Ma è proprio questo che volevo chiederle perché abbiamo detto più volte che Mosaic Alpha è una piattaforma di trading facile da usare per la gente comune come può un importante operatore bancario, un operatore finanziario, entrare in questo quadro? Dovete capire che la piattaforma Mosaic Alpha è in realtà solo una piattaforma quindi non la forniamo noi. Gli attori del mercato devono fare entrambe le cose, la parte del cliente e la parte del servizio e dovete pensare a questo come se io gestissi un mercato e i venditori venissero lì, usassero il mercato e i clienti venissero sul mercato per incontrare i venditori quindi la prima pietra miliare del sistema Mosaic che è stata lanciata è la piattaforma Mosaic Alpha che è in attesa di trader, trader professionisti che sono disposti a commerciare in un ambiente decentralizzato, in altre parole, a commerciare denaro in un modo in cui non possono toccare il denaro quindi non possono prenderlo, non lo immagazzinano, sono in realtà come un pianificatore karmico di come si svolgerà il trading e nessuno ha accesso al denaro del cliente, tranne il cliente stesso quindi se un utente arriva lì nessuno può portargli via il denaro, né le autorità, né gli hacker nessuno, solo lui, può portarlo via queste interfacce che si trovano in un sistema di questo tipo che chiamiamo sistemi senza fiducia sono senza fiducia perché non ci si deve fidare di nessuno perché non c'è la possibilità per nessuno di agire al di fuori delle regole di solito possono essere utilizzati da un utente medio di internet dopo un lungo periodo di apprendimento quindi non è facile da usare Mosaic Alpha è stato progettato fin dal primo momento per essere utilizzato dall'utente medio di internet e fin dal primo feedback ha avuto un grande successo più precisamente devo fidarmi di me stesso perché sono io a decidere in quale cestino mettere il mio denaro, giusto? dove può sparire? il fatto è che il denaro non può davvero perdere il suo valore perché se un trader opera male il valore degli asset che contiene può scendere e naturalmente si tratta di un mercato rischioso, di un investimento rischioso il che è un valore aggiunto dal punto di vista del fatto che se si va in una piattaforma di trading di criptovalute che è nota a molte persone si deve dare alla piattaforma di trading di criptovalute il denaro che può scomparire lì l'asset può scomparire e il valore può scomparire l'abbiamo già visto quindi questo accade regolarmente tra l'altro questi sono tipicamente i fornitori di servizi che operano nel sistema decentralizzato ora non può accadere che un asset scompaia un'operazione sbagliata può provocare una svalutazione dell'asset stesso quindi è molto importante il tipo di trader che entra nel sistema a proposito torneremo a Londra e terremo una presentazione di un'intera giornata specifica per i trader di criptovalute sulle opportunità che sono disponibili qui parlando un po' in generale lei ha appena detto che alla cerimonia di premiazione c'è stato molto interesse per mosaic alfa da parte del mondo finanziario tradizionale facendo un passo indietro un bloc può dire come questo mercato e il mercato finanziario tradizionale stiano convergendo stanno diventando amici perché spesso sentiamo dichiarazioni molto nette opinioni molto nette da parte di grandi nomi che questo mercato è destinato a morire che è una frode che non dovremmo investire e spesso sentiamo il contrario che il bitcoin varrà 100.000 200.000 o 300.000 dollari non lo so tra qualche mese quindi avendo entrambi gli estremi le due cose stanno convergendo c'è un sacco di confusione altrimenti la mia risposta è molto vicina ma per essere più chiari da un lato la tecnologia non è la stessa cosa del prezzo dei bitcoin e degli asset cripto è uno strumento speculativo e tutto può muoversi ma la tecnologia è molto di più ed è per questo che le istituzioni finanziarie non possono ignorare ciò che sta accadendo perché c'è un'enorme quantità di denaro che sta entrando nel mondo decentralizzato e possiamo già percepire che abbiamo raggiunto la soglia in cui ad esempio un'emissione obbligazionaria potrebbe non valere nemmeno la pena di essere effettuata in modo tradizionale e la visione scettica è che si tratta di una possibilità assoluta sia nell'unione europea che negli stati uniti e nella maggior parte dei paesi se qualcuno ha la licenza per emettere un'obbligazione o qualsiasi altro tipo di titolo può farlo sulla cripto tecnica e iniziare a venderlo su una piattaforma come questa quello che stiamo vedendo ora è che ci sono molti molti casi in cui si potrebbe andare a guadagnare molto di più vi faccio un esempio diciamo che se il centro commerciale non abbiamo una tale negoziazione con il centro commerciale quindi non usciamo fuori che questo è solo un esempio ok? quindi se il centro commerciale vuole emettere un'obbligazione potrebbe essere più redditizio per lui emetterla in questo ambiente perché c'è molto denaro, c'è molta liquidità, c'è molto denaro in cerca di un posto e solo apparendo in una forma tokenizzata in una quotazione come questa un mall bond che è giuridicamente assolutamente equivalente a un token obbligazionario convenzionale potrebbe essere in grado di venderlo molto più facilmente e molto più rapidamente persino di venderlo a condizioni migliori dal punto di vista del centro commerciale ora, siamo soliti dire che l'educazione è ancora necessaria per il trading di criptovalute nello specifico quindi dobbiamo educare le persone ad abituarsi a questo mercato si potrebbe anche dire che devono abituarsi a questa tecnologia devono imparare a fidarsi di questa tecnologia, giusto? si, e c'è molto di vero nel fatto che ci sono molte frodi ma o è un travisamento deliberato di cattive intenzioni o è molto stupido dire che questa tecnologia è una frode purtroppo è vero che ci sono molti truffatori c'è una semplice ragione psicologica molte persone portano qui il loro denaro che non sono particolarmente brave a investire ma poi nella condizione umana perché tutti vogliono guadagnare molto denaro senza un lavoro e poiché c'è così tanto denaro che vada per tutto se un truffatore dice che qui si può ottenere un rendimento del 10% al giorno allora non deve davvero promettere nulla di più di questo e il denaro andrà lì quindi questa è la più scandalosa di queste promesse del 10% al giorno e questa è la promessa più scandalosa che ho visto promettendo il 100% al giorno nel recente passato ma non è necessario e alcune persone ci cliccano sopra certo, quindi è tutta una truffa non esiste al mondo un 10% garantito al giorno che si sa essere una truffa l'altro giorno ho potuto spiegare a qualcuno che se prende un dado e calcola quanti soldi avrà in 10 anni se investe un milione di fiorini perché avrà più soldi di quanti ce ne siano su questo pianeta ma altrimenti non c'è abbastanza denaro in questo sistema solare o anche nell'intera galassia per far funzionare i soldi con il 10% al giorno non esiste una cosa del genere quindi se qualcuno vuole guadagnare molto denaro investendo deve correre un grosso rischio ecco l'opportunità con un grosso rischio ma ci sono cose ingannevoli qualcuno emette un gettone il gettone Fighi Firit e dice di pagare il 10% giornaliero ma si tratta di gettoni Fighi Firit da cui può produrre qualsiasi quantità di zero fiorini ed è vero che potrà ripartire con mille volte tanto quel gettone Fighi Firit in un anno ma non varrà nulla ora abbiamo divagato dall'argomento originale del premio che avete vinto è una risposta internazionale tecnicamente ci sono ancora reazioni internazionali? abbiamo avuto molte richieste abbiamo ricevuto molte telefonate da molti luoghi quindi è interessante che non fossero presenti dall'Asia ma il risultato dell'evento è che abbiamo avuto molte richieste dall'Asia dalla Malesia, da Singapore quindi non abbiamo ancora fissato una data per andarci ma ci piacerebbe andare e chiamare e siamo stati chiamati andiamo in molti posti in Europa ma ora Londra sembra essere il centro di questo mondo e forse il centro di quel mondo mi risulta che ci sia un legame piuttosto forte tra le istituzioni finanziarie le istituzioni finanziarie tradizionali e il mondo delle criptovalute KSBC ad esempio ha una sala appositamente allestita per organizzare incontri ed eventi in cui l'attenzione è rivolta principalmente alle criptovalute e al mondo decentralizzato e la parte normativa è collaborativa? non sono aggiornato sull'aspetto normativo delle regole del Regno Unito so che prima erano molto permissive ma poi molti progetti sono stati respinti e quindi sono stati resi più severi ma ci sono molti progetti di criptovalute registrati a Londra o nel Regno Unito quindi penso che le regole siano permissive e ora sembra sempre più che l'Unione Europea stia aprendo un grande varco verso le criptovalute questo è un argomento a parte ho parlato con Attila Vidakovic fondatore di Mosaic Alfa Attila grazie per essere qui grazie mille avete ascoltato Alna Andortot unitevi a noi la prossima volta Cryptoverzum ogni lunedì e giovedì nel monitor mattutino quello che c'è da sapere sulle criptovalute e sulla tecnologia che le sostiene in collaborazione con la piattaforma di trading di criptovalute Mosaic unitevi a noi la prossima volta e la prossima volta